Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog. E parliamo anche oggi di Cantagiro chiaramente perché è la serie principe di questa estate, ne stiamo parlando in maniera molto ampia e talvolta io credo proprio che arriveremo anche oltre probabilmente a quello che è il periodo estivo. Ma l'argomento Cantagiro è un argomento in cui si può spaziare, del quale possiamo parlare in diverse direzioni. E quindi lo sto facendo veramente in modo molto approfondito, anche non pensando assolutamente a quando questa serie finirà, perché a questo punto non so bene quando finirà. Però è lo stesso, noi andiamo avanti, ci raccontiamo il Cantagiro. Oggi fra l'altro è molto importante questo Cantagiro perché è il primo di un nuovo decennio e sto parlando del Cantagiro del 1970. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, benvenuti sul mio canale Buonavisione, oggi vi parlo del Cantagiro del 1970. Il Cantagiro del 1970 partì il 24 giugno da Pugno Chiuso del Gargano, si concluse l'11 luglio con la finale a Riquaro Terme. I conduttori di questa edizione furono Nuccio Costa, Mita Medici e Danny Paris. Nel 1970 Ezio Radaelli, l'organizzatore del Cantagiro, si trovò però a dover fronteggiare una singolare richiesta da parte dei cantanti più famosi. Cioè avrebbero partecipato solo ed esclusivamente se fosse stata abolita la gara, che poi in realtà era uno dei meccanismi fondanti del Cantagiro. Però questa gara era stata già in alcune edizioni precedenti oggetto di critiche, di accuse, per giurie manipolate. Però comunque in ogni caso era un elemento di agonismo importante perché il Cantagiro, come ricorderete, era il giro d'Italia della canzone. Quindi un vincitore ci doveva pure essere. Però siccome Radaelli capì che era l'unico modo per garantirsi la presenza di nome di spicco, decise di togliere la gara. Non soltanto nel girone A, ma anche nel girone C. Sì, perché quest'anno ci sarà anche il girone C, che non sarà dedicato chiaramente a gruppi come accadeva in precedenza, ma sarà dedicato ai cantanti stranieri che cantano in italiano. Le giurie rimasero solo per il girone B, cioè quello delle nuove proposte, perciò il vincitore del Cantagiro del 70 sarà una nuova proposta. E il vincitore quindi in assoluto di questo Cantagiro, perché è l'unico girone che ha la gara, sarà quindi un cantante nuovo, di cui parleremo dopo quando vi elencherò gli artisti. Ok? Allora, per l'occasione di questo Cantagiro del 70 si riunirono anche i giganti, presentarono Voglio Essere una scimmia. Nel girone degli stranieri si affacciava alla ribalta invece un giovane cantante, che si chiamava George, che avrebbe conquistato qualche anno più tardi le classifiche internazionali con il suo vero nome, perché questo George in realtà non era altro che Giorgio Moroder. Sempre tra gli stranieri c'era anche la presenza, con maschera negra, di una cantante brasiliana, che era Elsa Soares, momentaneamente trasferita in Italia e nota anche alle cronache rosa, per il suo burrascoso matrimonio con un calciatore della nazionale brasiliana di calcio, che era appunto Garrincia. In quell'edizione il Cantagiro perse anche quasi completamente un'altra delle sue caratteristiche, che ne avevano determinato il favore del pubblico, cioè la carovana delle automobili, che si snodava di solito sul percorso stradale con a bordo i cantanti. Perché? Perché la maggior parte dei cantanti famosi preferirono muoversi per conto suo, con la propria macchina, e non vogliono fare questo corteo. E soltanto gli esordienti onorarono quella grande festa di pubblico, che nelle precedenti edizioni aveva coinvolto un'enorme quantità di persone lungo le strade della penisola. Questo accadeva nel Cantagiro del 1970. Gli artisti, nonostante il fatto che non ci fosse gara nella categoria A, perciò i big, non saranno proprio tantissimi artisti. Quelli più numerosi saranno proprio nel girone B, e poi quest'anno ci sarà, come ho detto, il girone C, ma è dedicato ai cantanti stranieri che cantano in italiano. Questo è il Cantagiro del 70. Gli artisti e le canzoni adesso ve le racconto. Mi piaci da morire, resta sempre come sei. Voglio vivere come vuoi tu. Nel girone C del Cantagiro del 1970, dove gareggiano i cantanti stranieri che cantano in italiano, avrà nove partecipanti. Come ho detto prima, in questa categoria non ci sarà alcun vincitore. I cantanti partecipanti saranno i seguenti. Ci sarà Elsa Soares con Maschera Negra, Patrick Samson con Yeah Yeah, Kiss Me, Goodbye, Dick Rivers con J'aime, 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 Palito Ortega con Ragazza dagli occhi d'oro, e Niemen, oggi forse no. Ci sarà anche Jean-François Michel con Fiori Bianchi per te, Cattie Lane in direzione del sole, George con Lucky Lucky, e Delphine canterà un raggio di sole. La categoria B, cioè le giovani proposte del Cantagiro, è la categoria più numerosa di questa edizione. Saranno 24 gli artisti che si presenteranno, e questa è la categoria che è più importante, perché è l'unica che viene giudicata, e di conseguenza è da qui che esce il vincitore del Cantagiro del 70. Gli artisti in alcuni casi li abbiamo già visti, ci sono anche dei debutti importanti, molto interessanti, e ci sono anche degli artisti che poi probabilmente saranno materiale per lo spin-off che è dedicato ai cantanti, dimenticati del Cantagiro, perché voglio dire anche qui ce ne sono veramente molti. Allora, gli artisti che partecipano al Cantagiro del 70 nel Giro del B sono i seguenti. Ci sarà di nuovo Armando Sabini, che canterà Buttala al mare. Ci sarà Giulio San Germano, con che pasticcio nel mio cuore. Valeria Rigano, canterà in un bar taverna. Guido Renzi, canterà tanto cara. E Pio, grande come il mare. Pio, componente del clan Celentano. Gianni Nazzaro, ritorna, lo fa questa volta con Maria Maria. Ci sarà anche Valeria Mongardini, con Addio Città Vecchia, e Sergio Menegale, con Odio e Amo. Arriva anche Roberto Mazzini, la canzone che canta è stasera alle 8 e un quarto. Arriva anche Jordan, con Il Colore dell'Amore, Italo, con Folle Testolina, e debutta la cantante toscana fantastica, che è Giovanna, mitica Giovanna, con una canzone che si intitola Canne al Vento. Arriverà anche Daniela Ghibli, con Aio Aio. Arriva anche Fiammetta, canterà Tranquillità, e Farida, bravissima, canterà Pensami stasera. Ci sarà anche Gianni Farano, con Quasi le 6, Simona Faggio, con Peccato Perderti, e Gianni Del Rico, con Mi Stracci il Cuore, Mi Stracci l'Anima. Arrivano anche i Califfi, canteranno Acqua e Sapone, Bob e Louise, con L'Oceano, Paola Battista, con Hai Bruciato il Mio Cuore, Babila, Ci Stavo Bene Insieme a Te, e Li Alluminogeni. La canzone si intitola Orizzonti Lontani, ma a vincere il girone B del Cantagiro del 70, e sarà il vincitore, praticamente, del Cantagiro del 70, è Paolo Mengoli, con Mi Piaci da Morire. Il girone A, invece, quello dei big, del Cantagiro del 70, come ho detto prima, senza gara, perciò qui è soltanto una vetrina musicale, presentano le loro canzoni per l'estate. Allora, io subito voglio dirvi che questo Cantagiro è veramente molto anni 70, sono praticamente quasi scomparse, le canzoni tipiche degli anni 60, che già stavano scomparendo, già negli ultimi due anni precedenti a questo, già cominciavano a cambiare le mode, non solo nel modo di vestirsi, chiaramente degli artisti, poi lo avete visto e lo vedrete anche nei video, che vi propongo in questo vlog, ma anche proprio negli arrangiamenti, nel modo di stendere i pezzi, cioè proprio qui si respira l'aria dei primi anni 70 in tutte le sue caratteristiche, molto uso dei cori, molto uso del cantato, come si dice in gergo, un po' belato, molto uso, diciamo, dell'eco, che diciamo che queste sono le caratteristiche degli anni 70, e qui sono particolarmente evidenti, ecco, poi alcune cose verranno rimesse a posto col passare degli anni, ma qui siamo proprio nel 70 puro, dove ci sono appunto tutti questi modi di fare canzoni tipiche degli anni 70, ma qui veramente a tinte forti, ecco volevo dire, molte attinte forti, allora, il girone A, come ho detto prima, sarà composto da i ricchi e poveri, arrivano di nuovo i ricchi e poveri, nel girone A, questa volta, con In questa città, cosa stranissima di questa canzone, è che a cantare sono praticamente soltanto le voci maschili, cosa che non siamo abituati, quei ricchi e poveri, perché le voci femminili faranno solamente dei richiami di cori, ma in realtà la voce principale sarà solo esclusivamente maschile, di Angelo, ok? Poi, Massimo Ragnari ritorna, lo fa con le braccia dell'amore, i ragazzi della Via Gluck canteranno Volo a Z 018, e Nada, arriva Nada, canta bugia, arriva anche Domenico Modugno, la canzone è La Lontananza, Giganti, con Voglio Essere Una Scimmia, e arriva la grande Rosanna Fratello, canterà Carità, ci sarà anche Jimmy Fontana, ritorna di nuovo, con Bella, sdraiata e sola, Nino Ferrer, con Io, Tu e il Mare, e Gipo Farassino, la canzone è Non Devi Piangere Maria, i Dick Dick, canteranno un mitico pezzo, che poi rimarrà nella storia, un po' come La Lontananza di Modugno, e sto parlando dell'Isola di White, poi ci sarà Adilano Celentano, canterà Viola, i Camaleonti, contiamo da un'ora, e poi il grande Don Baki, debutta la grandissima Don Baki, e lo fa con una canzone mitica, meravigliosa nel suo repertorio, che si intitola Cronaca. E stiamo ai dischi più venduti da questo cantagiro del 1970. Allora, nel 1970, ci tengo a dirlo, la canzone più venduta sarà Insieme di Mina, e sarà la canzone più venduta nel 70, ma al secondo posto ci sarà proprio la canzone che partecipa al cantagiro di Domenico Modugno, che sarà il secondo single più venduto nel 70, e sto parlando della Lontananza. Al numero 23 ci sarà Jean-François Michel con Fiori Bianchi per te, al numero 30 Cerentano con Viola, al numero 61 L'Isola di White e Dick Dick, al numero 68 Ti amo da un'ora di Camaleonti, al numero 93 Le braccia dell'amore di Massimo Ranieri, e al numero 100 in questa città ricche e poveri. Sono questi i più venduti dal cantagiro del 1970. E ci siamo raccontati anche oggi un cantagiro, il primo del decennio degli anni 70, molto marcatamente anni 70, anche le nuove proposte presentano tutte canzoni, marcatamente anni 70, tantissimi sono i cori, tantissimi, gli argomenti anche delle canzoni sono molto anni 70, insomma è veramente caratteristico questo cantagiro del 70, anche se non memorabile come lo sono stati altri del passato per le canzoni, nel senso che le canzoni che escono da questo cantagiro non ne rimane proprio tantissime, come accadeva invece in altri cantagiri passati, ma sai è un passaggio veramente, nel vero senso del termine, da un decennio a un altro, e chiaramente c'è anche una trasformazione, ci sono anche dei tentativi, che accadono specialmente quando c'è un cambiamento musicale, molto determinante, come quello che c'è stato, quando siamo passati dalla musica ye ye degli anni 60, a quella più impegnata, e di protesta degli anni 70, questi passaggi di solito, è accaduto anche per Sanremo ad esempio, anche per il disco per l'estate, per il festival bar, sono passaggi che di solito un po' se ne risente, anche da un punto di vista proprio, non solo musicale, ma anche di vendita sto parlando, perché ci sono tante nuove proposte musicali, che ancora non sono comprese al massimo, ancora si respira l'aria del decennio precedente, perciò c'è da aspettare, perché poi si consolideranno, questi nuovi generi musicali, e diventeranno quelli principali, di questo decennio del 70, che tante belle cose ci ha regalato, allora se vi piace l'argomento del Cantagiro, vi ricordo che potrete trovare nel mio canale, l'intera playlist che ne parla, si chiama proprio la storia del Cantagiro, e lì troverete tutta la storia della manifestazione, ma anche all'interno gli spin off, dedicati sia a chi vince il Cantagiro, e sia a chi appunto invece si è perso, quindi vi parlo anche dei dimenticati del Cantagiro, che sono sempre molti, sinceramente sì, questa volta però, e questo sarà l'argomento del prossimo vlog, dedicherò veramente con piacere, il vlog sulla storia di colui che invece vince, il Cantagiro del 70 assolutamente, nonostante sia una proposta, perché è l'unico vincitore, e sto parlando di Paolo Mengoli, va bene? Dedicherò a Paolo Mengoli proprio un vlog, sulla sua storia e sulla sua vita artistica, quindi vi aspetto alla prossima volta, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ciao da Ale!